Scoppia un violento litigio e spunta una calibro 38 da cui vengono esplosi due colpi verso un'auto e una casetta prefabbricata. È accaduto al campo nomadi di Voghera dove sono intervenuti i carabinieri e la polizia che alla fine hanno arrestato un uomo di 37 anni. Secondo quanto emerso si tratterebbe della commerciante ambulante Davide Palumbo, lo stesso che l'estate scorsa aveva aperto il fuoco in piazza Duomo all'ora dell'aperitivo contro un extra comunitario di 51 anni con cui aveva avuto una discussione. Nel pomeriggio di giovedì il 37enne si trovava invece al campo nomadi di Via Piacenza quando sarebbe iniziato un litigio con un uomo sulla settantina, anche egli con precedenti di polizia. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, a un certo punto Palumbo avrebbe estratto la pistola e sparato due colpi. Il primo ha mandato in frantumi i vetri della macchina del rivale, il secondo avrebbe invece superato la parete del modulo abitativo del nomade che in quel momento per fortuna era vuoto. Poi se n'è andato ma è stato rintracciato dagli agenti in città mentre era al volante della sua auto, fermato e portato in caserma. Con sé aveva la pistola che è stata sequestrata e è stato quindi arrestato con le accuse di tentato omicidio e detenzione illegale di armi e portato in carcere.